5 minuti due volte al giorno, in notturna, per raccontare una storia che ha a che fare con il carcere, ovviamente, come tutte le storie della nostra rubrica, e con la pena di morte. Abbiamo già parlato qualche giorno fa di una canzone che parla della pena di morte, cioè nebrasca di Bruce Springsteen, oggi veniamo in Italia, veniamo alla canzone di un cantautore bravissimo, Enrico Ruggeri, che nel 2000, se non ricordo male, vado a memoria, poi casomai mi correggerà Gianpaolo, se sto sbagliando, porta a Sanremo una canzone insieme alla compagna Andrea Mirò, bravissima e validissima musicista, arrangiatrice, compositrice e cantante, la canzone Nessuno Tocchi Caino. Un testo bello, appassionante, emozionante, è un titolo che si rifà all'associazione omonima, appunto, Nessuno Tocchi Caino, che si batte per l'abolizione della pena di morte in tutto il mondo. Quindi oggi, a 5 minuti due volte al giorno, Enrico Ruggeri e Andrea Mirò. La canzone Nessuno Tocchi Caino è stata presentata al Festival di Sanremo del 2003. Il testo della canzone è incentrato sulla pena di morte. In particolare, si immagina un dialogo tra il boia, interpretato da Enrico Ruggeri, e il condannato, interpretato in questo caso dalla brava Andrea Mirò. Il boia racconta le sue sensazioni in vista delle esecuzioni, che ormai sono inesistenti, e racconta anche le prime forti esperienze nelle prime esecuzioni. Invece, il condannato vive nella speranza che ci sia un ripensamento da parte del boia che possa salvarlo. Il brano si piazzerà solamente quarto nella classifica finale di quel festival di Sanremo, però vincerà il premio della critica come miglior testo. non chiedergli perdono, non moriva mai, non finiva mai, ma ti abitui a tutto, non lo sai. Il mondo non passa da qui, il mio pensiero è andato via, oltre a queste sparte, fino a casa mia, c'è lo stesso cielo e domani avrà una firma e un gesto di pietà, un davano e un segno di pietà. Tutto è compiuto perfettamente, oramai qui non si sbaglia quasi niente, controllate voi due minuti e poi io potrò tornarmene dai miei, perché anche io ho moglie e figli miei.